Mercoledì sera ad Holomuz la nazionale azzurra under 21 di calcio cerca la qualificazione alle semifinali e anche il pass per accedere alle Olimpiadi di Rio nel 2016. Gli azzurini guidati da Gigi Di Biagio sono attesi alla prova importante contro l'Inghilterra. Le prime due partite non sono state certamente positive, sconvita con la Svezia per 2 a 1 e il pareggio contro il Portogallo per 0 a 0. Ora bisogna battere i bianchi d'oltremanica e sperare che il Portogallo contro la Svezia faccia all'etrettanto. L'impresa non è impossibile ma se gli uomini azzurri riescono a dare il cuore e la grinta ce la possono fare. Inizio della gara alle 20.45.